Buongiorno a tutti da Andrea della SEL di Brescia, oggi vi mostrerò il risultato di un'altra delle nostre installazioni. Abbiamo avuto il compito di integrare la funzione CarPlay da Android Auto su questa Mini F56, ovviamente dotata di monitor originale. Abbiamo quindi installato un hardware che ci permettesse di avere tali piattaforme a disposizione, con visualizzazione nel monitor originale e con gestione da iDrive originale. In questo caso abbiamo collegato un iPhone e quindi avremo una piattaforma CarPlay a disposizione, quindi potremo utilizzare Google Maps, Spotify per quanto riguarda le funzioni musicali. Per quanto riguarda l'audio dobbiamo sfruttare l'ingresso auxino originale, quindi non sarà possibile ascoltare simultaneamente le fonti originali di CarPlay. Il consiglio infatti che do a tutti i miei clienti è di scaricare ad esempio applicazioni come TuneIn Radio per poter avere anche la radio durante CarPlay o da Android Auto a disposizione. E qui vedrò diverse icone a seconda di quali app ho installato sul mio telefono ovviamente. Le classiche sono quelle che riguardano telefonia, messaggistica, musica e navigazione. Il sistema mi permette di gestire perfettamente anche l'ausilio al parcheggio originale, quindi se metto la retro commuta direttamente sui sensori o telecamera originale se fosse installata e quindi non perdo tale funzionalità. Se avessi connesso un telefono Android ovviamente vedrei in questo momento la piattaforma Android Auto. Questo sistema ovviamente è compatibile con più vetture mini ed anche BMW essendo basate sulla stessa piattaforma. Se anche voi siete interessati a un sistema simile non esitate a contattarci. Io sono Andrea della Sail di Brescia, il nostro sito è sailcarshop.it e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle nostre installazioni. Un saluto a tutti!